Ben ritrovati, ben ritrovati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate il vostro preziosissimo like. Grazie! Allora, possiamo definirla un'unità anticrisi alla continassa. Si lavora per preparare la sfida che si avvicina sempre di più, quella di domenica alle 12.30 con il Frosinone. Vi ho raccontato ieri come mi risulta che Max Allegri abbia parato la squadra puntando sul fatto che ci si debba concentrare bene per ottenere il piazzamento Champions perché ad oggi non è stato ottenuto e quindi se si commettesse l'errore di pensare di essere già in Champions probabilmente si diventerebbe ancora più vulnerabili. Vi ho anche detto che non mi risulta che all'orizzonte ci siano delle scosse o degli scossoni tecnico-tattici così impattanti però sicuramente ci sono delle valutazioni da fare soprattutto in termini individuali proprio in vista della sfida, del lunch match di domenica. Per esempio, da quello che ho intuito, Alcaraz verrà responsabilizzato. Cosa significa? Che probabilmente otterrà maggiore minutaggio. E tempo di una maglia al titolare? Probabilmente sì, ma qui io non sono nella testa di Max Allegri, nemmeno del suo staff, quindi il verdetto sovrano verrà emanato dal tecnico livornese. Sicuramente, lo dico sinceramente, mi aveva infastidito molto che Alcaraz non fosse entrato con l'Udinesa, a maggior ragione poi considerando quanto sia stato proficuo il suo ingresso con il Verona perché in una situazione di disordine, di grande confusione tattica comunque l'Argentino ha messo in mostra due o tre cose interessanti, soprattutto per come ragione, in verticale. Ecco, io continuo a battere su questo aspetto. Ci sono pochi centrompissi attuali alla Juve, naturalmente la Juve, che ragionano in avanti. Sempre a fare il passaggino quasi regbistico, sempre a fare il compitino. Alcaraz, dal canto suo, ha cercato di strappare tra le linee e credo che questo aspetto lo si sia notato oggettivamente da parte di tutti. E' un ragazzo che fisicamente sta bene, è un ragazzo che proviene dalla scuola Inghilterra, a livello proprio di Premier League, Championship, quindi significa migliorare l'atletismo e significa poter fare la differenza da questo punto di vista e non solo in Italia. Quindi su Alcaraz ho avvertito che è destinato ad avere maggiore minutaggio se dovesse partire dall'inizio con il Frusinone, quindi non mi stupirebbe. C'è da cambiare qualcosina lì, amici? C'è da cambiare perché McKennie mi sembra una fase di flessione fisiologica. Non potevamo pensare che McKennie facesse, considerando anche la Coppa Italia, magari 40 partite da assoluto protagonista, quindi non critico le ultime apparizioni di Wes, che ha dato tanto, ha dato davvero tantissimo nell'arco della prima parte di stagione e ora sta semplicemente rifiatando. Ci può stare nella maniera più assoluta, non possiamo fare sempre i fenomeni, non possiamo sempre pensare che tutti i calciatori premano sull'acceleratore al 101%. Certe volte lo fai anche e non ci riesci e quindi credo che le ultime due gare proposte da Wes siano state sotto tono a livello atletico. Quindi a questo punto di vista ci potrebbe anche stare uno scambio per rifiatare con l'inserimento di Alcaraz. Fermo restato che io non credo al tridente dall'inizio, nudo pure crudo, ma credo al fatto che Alcaraz potrebbe anche tornare utile per creare qualche situazione offensiva in più. D'altra parte parliamo di uno che nel corso della sua fin qui breve carriera, ma è già comunque con tante esperienze, ha fatto la seconda punta, ha fatto anche la prima punta tipica. Per come ragiona, magari Alcaraz può essere cosa buona e giusta a supporto di due attaccanti. Su Federico Chiesa c'è un'altra riflessione da fare. Ecco, anche qui ho avvertito che siamo un po' a una sorta di punto interrogativo. Io per Federico ho profondo rispetto, maledico sempre quella partita di Roma, però è innegabile che al netto del fatto che uno può non essere d'accordo con Allegri che richiede di fare la seconda punta, ultimamente Federico sta facendo fatica. Ha avuto quelle due situazioni a Verona e non le ha sfruttato a dovere, non lo giudico esclusivamente per non aver fatto gol in quella partita, ma c'è bisogno che torni ad essere decisivo, che lo faccia come lo stia facendo Dujan Blaovic, che è tanto criticato, ma se non segna lui in questa squadra, sostanzialmente non segna nessun altro. Chiesa probabilmente a livello di interpretazione offensiva, secondo l'Allegri Pensiero, non si sposa a livello di zolle in maniera perfetta con il Diz, perché se tu decidi di partire magari con un tridente offensivo, devi mettere Chiesa a destra, a sinistra, il Diz, prima punta Blaovic. Se altrimenti finisci per scarabocchiare, per pasticciare, il Diz e Chiesa, per come interpreta la fase offensiva Allegri, si pestano i piedi, occupano la stessa zona del campo. Però con il Frosinone, secondo me, c'è bisogno che Chiesa giochi dall'inizio e che possa provare a fare la differenza, ma nella maniera più assoluta. nella maniera più assoluta, in quanto in un caos, dove ogni giorno ci sono voci sul futuro di Allegri, sul futuro di Tiz e sul futuro di Caio, bisogna provare a ripartire da qualche certezza. Cioè, amici e amici, noi non possiamo mettere in discussione in questo momento tutto, perché sarebbe davvero come buttare da un ponte, proprio da un ponte altissimo, tutto ciò che è stato fatto di buono in termini di risultati in giorni d'andata. È fondamentale ottenere questa Champions il prima possibile, anche per avere la tranquillità per programmare la prossima stagione. Anche se si vuole cambiare allenatore, la Champions è una condizia sine qua nonne, io non sono preoccupato. La Juve per me va in Champions, ma bisogna ottenere questa Champions il prima possibile. Capitolo campo, non ci sarà Danilo, ve lo confermo, domenica. È da valutare ed è anche in forte dubbio per la trasferta di Napoli. Credo che si possa tornare al cosiddetto usato sicuro, ovvero quello raffigurato da Gatti, Bremer e Rugani. Bremer, come ben sappiamo, ha rientro dalla squalifica, che è anche il trio che ha fatto meglio fin qui. Perché Rugani, noi lo critichiamo anche aspramente, ma un abbraccetto di sinistra, considerando le performance di Danilo barra Alexandro, finora Rugani è stato quello che veramente ha fornito indicazioni più solide e rassicuranti. Sì, quindi non è che la Juventus abbia grossi problemi di formazione per il Frosinone, ma è una gara, una gara difficile, è una gara scorbutica, è una gara che ti porta a vedere davvero i fantasmi. Perché quando non riesci a vincere contro l'Empoli, contro l'Udinese, contro il Verona, allora anche il Frosinone può somigliare tantissimo a un Everest da scalare, ma domenica, domenica bivio, bivio verissimo, non vero, bivio verissimo, perché se vinci dopo quattro partite, finalmente ritorni al successo, mantieni la seconda posizione, ed è una vittoria in meno per l'aritmetica qualificazione in Champions. Se non dovesse arrivare il successo, e quindi non parlo solamente di sconfitta, che sarebbe una catastrofe, ma anche di pareggio, sarebbe giù il mondo, e mi sembra che già il mondo sia già un pochettino venuto giù. Comunque, inutile fare un processo alle intenzioni, vediamo quello che accade, qualche correttivo in termini di individualità, credo che Allegri lo proporrà, e mi aspetto, come vi dicevo, che venga responsabilizzato in termini di minutaggio, anche proprio di richieste a livello tecnico-tattico, il buon Alcaraz, che con il Verona non mi è dispiaciuto affatto.